Ciao a tutti amici del Razzurri, eccoci qua, lo vedete, San Siro, il meazza alle mie spalle, finalmente la stagione 2023-2024 sta per cominciare, sono già uscite le prime due magliette, lo sapete, la prima siamo andati a vederla l'altro giorno allo store del Duomo, oggi invece la seconda, siamo qui a San Siro e eccoci qui per vederla insieme, ammetto di averla intravista ovviamente l'altro giorno allo store, ma non l'ho calcolata fin troppo, è una maglietta che si è vista già addosso ai giocatori, si è vista nelle foto, si è vista nei video, però come ben sapete le mie condizioni di salute, diciamola così, non sono stati ottimali negli ultimi giorni e allora recuperiamo il video ed eccoci qua. Prima di entrare vi ricordo una cosa www.ufocalcio.com, ormai lo conoscete per magliette a prezzi bassissimi, vi ve lo consiglio altamente, conoscete anche i miei ordini e me ne sta arrivando uno ragazzi, me ne sta arrivando uno che appena mi arriverà vi farò vedere ovviamente, nel frattempo mi sono riempito delle maglie dell'anno scorso, la prima di nessuno con la patch della Champions League, la terza di Alessandro Bastoni, guardatela qui con la patch della Serie A e poi la chicca finale, per chi non l'avesse ancora vista, quando vi dico che su www.ufocalcio.com ci sono tutte le magliette, è perché ci sono davvero tutte le magliette. La maglietta della finale di Madrid 2010 di Avier Zanetti, guardate qui che spettacolo e adesso ovviamente vi ricordo anche che con il codice sconto intra avrete un ulteriore 10% e fino al 14 agosto c'è un'offerta imperdibile, trovate tutto in descrizione. Mi raccomando www.ufocalcio.com e adesso andiamo a vedere la seconda maglietta della stagione 2023-2024. Grazie a tutti! Come sempre è arrivato il momento di provarla, purtroppo qui allo store sono tutte vuote, quindi non so bene come sia il fonte dietro, però comunque la proviamo perché già si prospetta una bella maglietta. Più complicato del previsto provarla, ma la proviamo, la proviamo, mi posiziono qui e ci cambiamo. Eccola qui, eccola qui, guardate un po' che spettacolo di maglietta ragazzi, favolosa, favolosa, secondo me è ottima la scelta di non mettere la montagnetta, il nero fantastico, lo Swash Nike blu, pauroso, una maglia davvero eccezionale, così come l'ho detto per la prima, lo dico anche per la seconda, mi ricambio e la ricommettiamo anche fuori. Ovviamente prima un paio di foto di rito. Ci abbiamo. Andiamo fuori a ricommentarla. Prima però tappa obbligatoria nella piccola vetrina che affaccia su San Sino e c'è sempre il brevidino, manca davvero poco e finalmente si torna qui perché ad Inter Monza noi ci saremo. Ragazzi, due piccole pecche che non c'entrano con la maglietta, purtroppo non ho trovato la mia taglia della maglia da gioco, che è leggermente diversa, però vabbè poi l'estetica in realtà è la stessa e la seconda è quella che, come vi dicevo prima, non c'erano maglie di giocatori sulla seconda, purtroppo, quindi non siamo riusciti a vedere il font che c'è nel retro, però comunque la maglietta mi viene da dire quasi che parla da sola. Ve l'ho detto, l'avevo già visto ovviamente addosso ai giocatori, nelle amichevoli, in foto, nel video di presentazione, eccetera, eccetera, però dal vivo l'avevo intravvista l'altro giorno allo Store e oggi mi sono concentrato solo ed esclusivamente sulla seconda e devo dire che la Nike anche quest'anno ha fatto un altro capolavoro. Quest'anno la seconda è veramente veramente bella, ripeto anche che mi piace la scelta di mettere solo la scritta Paramount e non anche la montagna come è stata messa sulla prima e ragazzi, due maglie eccezionali, la seconda forse mi piace anche leggermente di più rispetto alla prima e questo era il nostro video della seconda maglia della stagione 2023-2024. Se vi è piaciuto mettete l'ai, commentate, condividete, iscrivetevi al nostro canale YouTube, attivate la campionella per seguire tutti i nostri video e tutte le nostre live. Passate da tutti i nostri social che vi trovate in descrizione, mi raccomando passate anche da www.ufocalcio.com con il codice sconto Inter avrete il 10%, fino al 14 c'è un'offerta incredibile con maglietta a prezzo bassissimo, trovate tutto in descrizione, noi ci vediamo al prossimo video, una prossima live e qui a San Siro ci vediamo il 19 per Inter Monza. Forza Inter!